Ah, non c'è più la musica di una volta. Ah, i bei tempi. Ti sarà capitato anche a te di leggere sui social, sui blog, o sentirlo da amici, conoscenti. Io lo sento dire anche dai miei colleghi. Ah, non c'è più la musica di una volta. Guarda, io ho 50 anni e sento ripetere questa storia dagli anni 80 e per fortuna che non c'era internet. La musica brutta c'è sempre stata, anche quando non ce ne rendevamo conto. Ci siamo forse dimenticati di tormentoni pseudo-caraibici tipo Menaito, Macarena, ma ci ricordiamo che negli anni 80 Sanremo era in playback? In Italia poi delle pseudo-produzioni di artisti che nemmeno cantavano nei loro dischi, ma solo perché avevano un bel faccino, popolavano quelle due reti che mandavano musica all'epoca, tipo DJ Television. Non so se hai questi ricordi, eh. Se hai qualche annetto come me, secondo me te li ricordi. E ti piacevano? Era bella roba? Quello che credo invece è che oggi viviamo un momento straordinario. Questa epoca digitale ha messo in condizioni chiunque di poter realizzare il suo progetto musicale senza spendere più una fortuna come una volta o cadere in braccio a degli infami sfruttatori, pseudo-arrangiatori, produttori che arrivavano da chissà dove e che fregavano un sacco di soldi ai ragazzi. Si è aperto un nuovo mondo che ha cambiato radicalmente il modo di fare musica e come noi utenti fruiamo di questa musica. Credo che non ci sia mai stata un'abbondanza di musica come in questo periodo, ma credo anche che tornare indietro ormai è impossibile. Ma la cosa splendida oggi è che noi possiamo scegliere finalmente. L'unica grande differenza è che dobbiamo farlo noi. Dobbiamo essere attivi in questo processo, non passivi. Certo che se ancora ci illudiamo che la televisione o le radio ci propinino musica di qualità, siamo sulla cattiva strada secondo me. Quasi sempre ne rimaniamo delusi. Ma sai qual è la verità? La verità è che sono 30 anni che i network radio televisivi ci deludono con la loro musica. Ma poi in realtà, ma chi deludono? I singoli, io, la massa? Ma onestamente, a te quando sei in auto o a casa, ma cosa te ne frega della massa? Hai Spotify, hai Apple Music, hai YouTube e chissà cos'altro. E in quel momento ti stai chiedendo che cosa passa in radio o in televisione? Non credo proprio. Ti prendi il tuo device e ascolti la tua musica, quella che ti sei scelto tu, che hai comprato tu, che hai prodotto tu. Siamo sicuri che anche la massa non possa fare la stessa cosa? E allora invece di rompere le scatole sui social, in rete, che il pop di oggi fa schifo, allora cambia canale oppure usa il tuo device e ascoltati la musica che piace a te. Ora invece mi rivolgo ai miei colleghi insegnanti senza nessuna distinzione. Consigliate ai vostri studenti di ascoltare la vera bella musica, quella che voi sapete essere bella musica, perché voi avete gli strumenti per poter selezionare, giudicare, analizzare la musica e distinguere le cose fatte bene dalle cose fatte male. A lezione ascoltate la musica insieme ai vostri studenti e spiegategli perché ascoltare quella musica vale la pena, perché voi lo sapete perché vale la pena. Analizzate insieme a loro la composizione, l'esecuzione, il contesto storico in cui è stata pubblicata. Vedrete che avrete delle grandi sorprese. Se invece cercheremo di compiacere lo studente solo per il vil denaro, allora tireremo su solo dei musicisti beoti, analfabeti e affascinati dal circense di turno. Meglio se straniero. Ascoltando come suona la maggior parte dei giovani d'oggi, direi che un bel danno è già stato fatto. Lo sappiamo bene che il digitale è stato il miglior strumento per l'avidità, per far mettere da parte le cose importanti della musica, come per esempio la sensibilità musicale. Ce ne sono tantissimi di musicisti che sanno suonare formalmente bene, e per formalmente intendo, tecnicamente preparati, che vanno a tempo, intonati, che conoscono tutta la teoria, ma che spesso e volentieri non hanno spessore. E sinceramente per suonare in quel modo lì è molto più efficace il computer. Non lo credi anche tu?